A maggio ci ha lasciato un grande amico, ho chiamato Simone perché ha vissuto, è stato un compagno con me alla San Sovino insieme al nostro amico Gregorio Pagliucoli. Quindi vorrei che tutti piazzassino i credi per favore perché era un ragazzo che veramente se lo meritava, era un associato, era un connega, era un amico e quindi scusate se però questo minuto se lo merita. Grazie Gregorio. Una volta sconvolto tutti, vogliamo ricordare con questo gesto semplice e di grande significato la figura di Gregorio Pagliucoli.